Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto, approfondimento politico del giorno, oggi ospite negli studi di RT8 il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Luca De Renzis. Buonasera De Renzis. Buonasera a lei direttore, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, iniziamo naturalmente parlando del fatto di giorno, il giorno è quello di ieri, è stato un momento di grande riscontro a livello nazionale e anche internazionale per la città di Pescara che ha ospitato la vostra convention programmatica con il discorso di Giorgia Meloni, ha peraltro annunciato la sua candidatura in tutte le circoscrizioni italiane per il Parlamento europeo. Una tra i giorni che è stata anche un'occasione di messa a punto del programma di Fratelli d'Italia, partito che ormai è al governo del Paese da oltre un anno e quindi ha anche la sede opportuna per fare le riflessioni su quanto è avvenuto a livello nazionale, a livello regionale dove c'è stata la riconferma di Marco Marsiglio e tra le altre anche la sua rielezione. Insomma un momento felice per Fratelli d'Italia ma ha detto a Giorgia Meloni noi siamo rimasti sempre gli stessi, questo è diciamo l'incipit, è un po' il firruge di tutto il suo ragionamento che era molto proiettato sull'Europa. Cosa porta dietro Luca Terenzi di questa tre giorni, peraltro c'è stato mezzo governo, c'è stato tutto il partito a livello nazionale e anche tutti gli amministratori? L'estrema convinzione che oggi è nettamente il miglior politico d'Italia, Giorgia Meloni, risolutezza, persona del popolo, persona che parla in maniera chiara, poi anche la convinzione di una classe dirigente di un partito ormai strutturato davvero forte, in più l'orgoglio di aver rappresentato Pescara, cioè fatto vedere Pescara alla comunità nazionale e internazionale tantissimi ospiti hanno potuto vedere con meraviglia la bellezza anche di Pescara e questo non va sottovalutato e quando ci sono state alcune critiche anche da parte di pescaresi della parte avversa in merito alla location, all'occupazione del suolo, della spiaggia, io volevo ricordare che ci sono forse 8 chilometri di spiaggia a Pescara che se per 15 giorni 100 metri sono stati occupati, credo che il risvolto positivo sia ampiamente superiore al dato negativo. Un evento di questo genere ha determinato anche, si è detto, un indotto per la città, questo da pescarese, come lo ha potuto percepire? Ho percepito che solo personalmente ho ricevuto decine di telefonate di amici nazionali del partito che non avevano trovato posto, qualcuno è dovuto andare a dormire a Giulianova, altri vasto, alcuni nell'entroterra, quindi ha fatto capire magari la carenza che abbiamo nel nostro territorio di strutture recettizie e questo dovrebbe anche sviluppare una riflessione perché noi dovremmo investire di più sul turismo. Un turismo potrebbe essere un esempio di fare grandi eventi di più giorni, nazionali, tematici, che possano portare un turismo importante, un turismo anche di qualità. Tornando al ruolo di Giorgia Meloni, centrale ovviamente, come dimostrato dalla sua candidatura in tutti i collegi dell'Europa, secondo lei qual è il valore aggiunto che darà la Premier candidata pur sapendo che non sarà eletta a Bruxelles? Innanzitutto l'originalità del fatto che oggi lei ha chiesto a noi di scrivere semplicemente il nome Giorgia può sembrare una trovata di marketing, magari lo è anche, anche una felice trovata di marketing, ma dà proprio l'idea di quella che oggi è Giorgia Meloni, cioè Giorgia Meloni è una persona di noi, una del popolo, partita dalla base, che ha fatto la gavetta, che ha scalato meritatamente tutti i gradi della politica e oggi si rappresenta per quello che è lei, una persona vera, che è quello che dice fa, sta cercando di riportare in alto l'Italia e di sicuro si dice che sarà un plebiscito, noi ce l'auguriamo, io personalmente e tutti i miei elettori voteremo come primo nome Giorgia, poi esprimeremo altre due preferenze. Allora, ieri è partita la campagna europea di Fratelli d'Italia a tutti gli effetti e sta partendo anche quella per il Comune di Pescara, non casualmente, diciamo anche la scelta della città come una il cui risultato sarà importante anche a livello nazionale, per Carlo Masci che è stato riconfermato da tutta la coalizione, ma anche per Fratelli d'Italia che ricordiamo Pescara ha eletto due consiglieri regionali, lei e l'altro collega da Dazio, insomma il partito anche in una situazione in cui, ecco lei diceva, non c'era ancora un'organizzazione, si sta iniziando a radicare anche sul territorio cittadino, con quali prospettive anche per la costruzione della lista di Fratelli d'Italia alle prossime comunali? Innanzitutto alle regionali noi abbiamo subito molto la lista del Presidente in termini di consenso di Fratelli d'Italia, nonostante questo siamo riusciti, come diceva lei, ad eleggere due consiglieri come le altre province, al pari delle altre province. Ora al Comune di Pescara vogliamo essere protagonisti del buon governo di questa città, migliorarla, dare il nostro contributo sperando di eleggere più consiglieri possibili, noi contiamo di eleggere una decina di consiglieri e poi qualche assessore sicuramente che darà il contributo fattivo nostro come noi sappiamo fare come persone molto pratiche. Ha avuto la capacità di farsi rieleggere, farsi eleggere nuovamente dai suoi elettori pescaresi del collegio e anche comunque guadagnare un consenso personale che le ha consentito di avere un posizionamento tale, peraltro anche da assumere l'incarico di consigliere segretario dell'Assemblea regionale. Ecco, intanto chi si sente di ringraziare tra i suoi elettori? Io ho trovato un grande entusiasmo in Fratelli d'Italia, credo di avere e ho sicuramente, io ho grandissima stima del Presidente Marsilio, credo da parte sua di avere lo stesso tipo di sentimento, anche il fatto che mi ha voluto nel suo partito sta lì a dimostrarlo, io penso di aver ripagato con un risultato importante in un'elezione, in una circoscrizione molto difficile che è quella di Pescara, sfiorando i 5 mila voti. Di sicuro sono orgoglioso che i miei voti sono arrivati da tutti e 46 comuni, non c'è comune che non ha espresso quantomeno due voti sulla mia persona, questo sta anche a testimoniare un'attenzione che ho dato in questi 5 anni a tutti i comuni, non mi sono limitato alla fascia costiera o alla mia città di provenienza che è Pescara, ma ho dato attenzione massima soprattutto alle aree interne e loro mi hanno ripagato con un consenso abbastanza importante. Un consenso tale che le ha consentito di diventare anche consigliere segretario del Consiglio regionale, un ruolo che è molto importante anche nella gestione dei lavori d'aula, che inizia ad essere anche di un rilevo istituzionale, voi vi siete già riuniti con il Presidente Sospiri per dare un'impronta a quella che sarà la gestione dei lavori della principale assemblea legislativa della Regione. Quale è da questo punto di vista il suo impegno che diventa anche un impegno bipartisan in certi momenti di lavoro, no? Sì, io con il Presidente Sospiri ho sempre avuto un ottimo feeling, c'è anche amicizia con noi, quindi sono convinto che lavoreremo bene per il bene di tutta la comunità dei consiglieri regionali, nell'ufficio di presidenza siamo solamente in 5, quindi è importante avere serietà, avere una ferma convinzione dell'unità comunque nel complesso, va garantito l'opposizione, va garantito la maggioranza, ma soprattutto vanno garantiti i lavori, non ci dimentichiamo che il Consiglio regionale è un organo legislativo, noi dobbiamo produrre leggi, siamo chiamati come ufficio di presidenza a far sì che tutto possa camminare in maniera snella e spedita. Il rapporto tra Pescara e l'Aquila, adesso lei svolge questa attività da consigliere regionale, è una legislatura in cui c'è stata sempre un po' di discussione su questo tema, lei pensa che per esempio possa in qualche modo risolversi una questione fondamentale che è quella della ricostruzione degli uffici della regione in questa città per poter anche in qualche modo rendere più equilibrato, possiamo dire così, il rapporto tra la principale città in termini di abitanti, che peraltro diventerà una città ancora più grande tra un paio d'anni e il capologo di regione? Guardi, mi fa sorridere questa domanda perché comunque Pescara e l'Aquila sono un campanile che non esiste più, noi siamo una regione, devo dire noi siamo una grande regione, nello specifico sono due città straordinarie, Pescara l'abbiamo visto ieri, ma Pescara e i pescaresi sono gente ospitale, siamo un popolo aperto, siamo una città che si è fatta da sola, siamo una città che ha un futuro per me importante se l'amministriamo bene, il di là c'è l'Aquila, una città stupenda, adesso con la ricostruzione gestita in maniera eccellente da quello che probabilmente è il miglior sindaco d'Italia, Pierluigi Biondi, grande punto di riferimento anche nel nostro partito, quindi noi non possiamo che stare tutti d'accordo, è normale anche per vocazione, Pescara non può non avere un ufficio regionale degno di questo nome che oggi non c'è e quindi sicuramente lo svilupperemo così come è previsto nell'area di risulta. Ecco questo è un punto diciamo cui si discuterà sicuramente in questi prossimi 5 anni, ci sono anche tante partite legate allo sviluppo della città nell'ambito appunto regionale, tra queste la grande Pescara, lei come vede questo processo di fusione ormai inesorabile, soprattutto quali saranno i benefici che potrà avere per il territorio dell'Abruzzo intero? Di fatto noi rendiamo, come dice, legge una situazione di fatto perché ormai che è un'unica città e nelle cose, diventiamo anche nella forma, anche nello scritto, una città di oltre 200 mila abitanti, si aprono molte opportunità, è un processo inesorabile, sui tempi probabilmente vanno riflettuti perché non si deve avere fretta, ma sicuramente questa cosa si farà e credo che Pescara avrà un'ulteriore spinta per avere quel rilievo che ad esempio proprio ieri abbiamo visto che deve avere in un ambito nazionale. Io credo che Pescara debba essere vista costantemente come una delle prime 10 città d'Italia, lo è oggi e lo deve diventare e deve essere percepito così da tutta la comunità politica nazionale. Da questo punto di vista quanto può essere utile, proprio per superare quei campanilismi di cui parlavo prima, una riforma della legge elettorale che avvenga nella prima fase della legislatura, perché poi si va troppo a ridosso delle elezioni e c'è, come è accaduto quest'ultima occasione, la possibilità che salti tutto. Lei pensa che Marsilio ce la farà a cambiare la legge elettorale? Io sono profondamente convinto della proposta del Presidente Marsilio di fare un collegio unico, in maniera leale lo sosterrò, come sono convinto lo sosterrà tutta la maggioranza, diciamo così. C'è qualcuno che magari non è proprio convinto, cercheremo di portarlo a una riflessione per il bene dell'Abruzzo. Questa sarebbe una riforma molto importante, perché in effetti in una regione di 1.200.000 abitanti non ha senso dividerci ancora con i campanili. Le aree interne sono importanti come le aree costiere, Pescara ha la sua importanza, così come può averla Sulmona, può averla Sant'Egile della Vibrata, cioè voglio dire noi siamo una regione unica e nella nostra unicità dobbiamo essere in grado noi rappresentanti politici, noi che siamo al Palazzo del Governo, noi che siamo in Consiglio regionale, di ragionare per tutelare l'intero Abruzzo e uscire dal campanile, perché non vuol dire che io devo prendere voti solo a Pescara, ma posso prenderli ovunque, comunque ci tengo a dire una cosa, non dobbiamo ragionare. Ma siete tutti pronti per questa sfida? Per me l'amministratore, vero, cioè l'amministratore che fa il bene al proprio territorio, sono profondamente convinto di questa cosa, finita la campagna elettorale non dovrebbe più pensare ai voti presi, ai voti ricevuti, ai voti che dovrà prendere, ma deve pensare a dare risposte a tutto il territorio, così come un assessore non può dare risposta, che ha avuto l'onore di fare oggi l'assessore, non può dare risposte o prevalentemente risposte solamente nel suo ambito elettorale, deve darlo così come avviene a tutta la regione Abruzzo. Ecco, questo anche perché molti dimenticano che il Consiglio regionale sta lì per fare le leggi, le leggi riguardano tutti gli abruzzesi e quindi occorre avere questa visione generale delle cose. Nella sua nuova esperienza in Consiglio regionale, siamo alla conclusione della nostra chiacchierata, Luca De Rentis nei prossimi 5 anni, quali progetti di legge vorrebbe vedere arrivare in porto, proprio in questa avventura legislativa in qualche modo e quali sono stati già avviati nella precedente su alcuni settori, su alcuni campi di vita della regione Abruzzo, su cui si può incidere attraverso l'attività legislativa? Sì, innanzitutto vorrei completare un iter partito già nella vecchia legislatura, di portare a compimento l'istituzione del garante per la disabilità, che è una proposta di legge a mia firma, che prevede appunto di istituire in regione Abruzzo il garante per la disabilità al pari come c'è oggi del garante dei detenuti, del garante per i diritti dell'infanzia. Questo perché ci permette innanzitutto di elevarci di livello, per dare un riferimento certo a migliaia di famiglie che hanno questo problema e perché credo che nel 2024 la regione debba caratterizzarsi anche da qualità e la qualità vuol dire guardare a tutti gli aspetti sociali, a chi è più fortunato, a chi è meno fortunato. Noi dobbiamo guardare alle aziende, ma dobbiamo guardare anche alle persone che non hanno la fortuna, magari che nella vita hanno avuto delle sfortune o perché purtroppo hanno un handicap e quindi una regione che guarda il futuro deve saper dare qualità. Questa è la legge a cui io mi voglio battere nei primi mesi, sono convinto di portarla a termine, c'è il favore del Presidente Marsilio, poi individueremo la figura migliore che potrà ricoprire quel ruolo e sarà una figura che dovrà essere votata e ci tengo subito a dire che non dovrà essere una figura politica ma una figura che rappresenti anche quel mondo. E sarebbe bello se si approvasse tutto ciò all'unanimità, sia per quanto riguarda la legge, sia per quanto riguarda il nome. Sono convinto che questo avverrà e tra l'altro una cosa che ci tengo a dire, quelle poche proposte di legge che ho fatto nei primi cinque anni, io ho avuto sempre l'unanimità, questo al dire che cerco di guardare un po' per il bene collettivo e non per una parte. Grazie, grazie per aver raccolto il nostro invito e buon lavoro a Luca De Renzis, consigliere segretario del Consiglio regionale d'Abruzzo. Arrivederci. Grazie.